Ciao a tutti ragazzi io sono Alfio Zappalà e oggi siamo in un nuovo video In questo nuovo video oggi siamo su Tomodashi Life Ecco il mio sossio, vediamo che fa il mio sossio E' passato tanto tempo dal nostro ultimo incontro, sossio Vediamo un po' cosa dice Non riesco a fare nulla quando qualcuno mi guarda Non hai più voglia di vedermi, sossio di Alfio Non sono brava a congratularmi con gli altri Vediamo un po' che succede Quando pare qualcuno, Timon vuole fare amicizia Non hai più voglia di vedermi, sossio di Alfio? Ho saputo che Alfio vuole fare amicizia con me Uh, per me va bene Grazie, sta per venire Timon Ok Conversazione tra me e Timon, grazie Non abbiamo molte cose Oh Per questa volta lasciamo perdere Sarà per la prossima Oh oh Anto quando pare è arrivato con qualcuno Non hai più voglia di vedermi, sossio di Alfio? Voglio fare amicizia con Patrizio Va bene Questa è la taglio ragazzi E facciamo Grazie del consiglio, vado subito a parlare Sì, a quando pare è più Hai fatto amicizia Grazie del consiglio E sale di livello Senti dire rock and roll Ora per concludere bene in questo episodio Cioè non ho voglia di fare episodi lunghi Andiamo a vedere come stanno le coppie Uh, qua c'è un problema Va bene Vole detto fumaglio Bene ragazzi con questo video è tutto Questa era la mia isoletta di Tomodachi Life Spero che vi sia piaciuta Se vi è piaciuta Lasciate un mi piace Iscrivetevi al canale Attivate la campanella e le notifiche E noi ci rivediamo in un prossimo video Ciao ragazzi